Lei non c'è di arra, quindi, costituzione e ben hilli, una cosa che andava a dopo di posto di danni o a dopo di bené, con il Signore di Prunzio di Meno, due secondi, e con il Signore di Prunzio di Meno, due secondi, e con il Signore di Prunzio di Meno, così direi che è un po' anche, dico, anche la situazione patrimoniale è stata evocata, non L'Udici. L'Udici. Il Consigliere Polizia ha notizio di approvare la magra fedeglie perfetto. Nella magra fedegliele viene anche in generazione alla situazione patrimoniale. Non dei consiglieri di direttare i pazzi. I consiglieri vogliono attuare. Il consigliere Polizia non dira fuggire, il consigliere Polizia non dira fuggire, per dire che non dira fuggire, consigliere Polizia non dira fuggire. Consigliere Polizia. Consigliere Polizia. Grazie per il prezzo di concerto. Io mi trovo costretto a fare un attimo l'attività di direttativo a te. Il consigliere del paese ci deve fare, insomma, io leggo, no, perché poi non si chiamisce perché, se c'è un attimo, 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 se c'è un attimo. Delle richieste che sono nella direzione di un partito politico serio, aperto, collettivo, colleziale. Dall'altro abbiamo un consigliere dell'API che minaccia le decisioni del Presidente del Consiglio facendo parte dei quattro gli sociali. Dall'altro, il Presidente del Consiglio Democratico che dice che gli assessori di questa giunta, in quanto loro, perché c'è stata questa spazzizione, non rispondono a quella partita, quindi rispondono a sindaco, a casino, a candidatismo. Dall'altro, quindi io, sicuramente, se ne sono parlate, ma se c'è un attimo, cioè io voglio che non so, non se ne so parlare perché c'è un attimo, c'è un attimo, questo che c'è un attimo, questo che c'è un attimo. Il Presidente del Consiglio Democratico non troverà mai, quello che c'è un attimo, c'è un attimo, c'è un attimo. Il Presidente del Consiglio Democratico è un attimo. Il Presidente del Consiglio Democratico è un attimo. Il Presidente del Consiglio Democratico è un attimo.